Valerio Parodi, detto il mentalista, direttamente da Italians Got Talent. Valerio, che cos'è il mentalismo? Il mentalismo è un mondo, è una forma artistica come l'arte, come la pittura, come la musica. Diciamo che ognuno ha la sua interpretazione, c'è chi magari vuole memorizzare tantissime informazioni in pochissimo tempo. Per me invece è cercare di essere recettiva all'emozione e ai pensieri delle altre persone e cercare a volte anche di poterli in qualche modo influenzare, mettere i miei pensieri verso le altre persone. Ecco, come ti sei avvicinato a questa arte? Questa è una bella domanda perché, sin da quando ero bella ad esempio, a te capita mai di sognare una persona e il giorno dopo di incontrarla per strada? Ma a volte? A volte, a me da piccolo succedeva, facevo anche sogni lucidi e boh, tutte queste cose qua, sai le piccole coincidenze, magari pensi a una persona, questa ti chiama dopo un minuto. Mi hanno incuriosito questi fenomeni qua. Ho iniziato a studiarli un po' e mi sono ritrovato a studiare illusionismo, mentalismo.